Ciao ragazzi siete dei grandissimi video del giorno dopo Ragazzi purtroppo in questi giorni ho la testa un po' altrove ma sono successe tante cose poi nel mezzo Fermi tutti Coupe de teatre, incredibile Ho girato la telecamera non sapete se potesse girare che non stavo pulendo e partita Allora il discorso qual è? Ieri la partita di Riffo di Raffa me la sono vista La Roma ha vinto, ha vinto bene, secondo me ha vinto con un avversario in cui è difficilissimo segnale Abbiamo fatto tre gol alla fine della fiera e ne potiamo fare altri Prima di parlare della partita da Roma però lasciatemi dire che questi giorni Sia del calcio che politici io vedo proprio un filo Vedo una trama di sottofondo che è veramente una trama tutta 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 italiana Cioè partiamo da Rigore televisivo Commento al fallo di Rabioso VR Rigore televisivo Che cazzo vuol dire? Non si sa però un rigore televisivo Ieri ci sono Buffon che bestemmia e viene definito Cristante che bestemmia e viene squalificato Lazare ieri sera ha bestemmiato adesso vi voglio vedere se verrà squalificato Ma conoscendo il boss lì della Lazio dubito che venga squalificato Ma staremo a vedere cosa si inventerà Poi Sigone Zaghi nel post partita parla Ho visto l'agnarsi come se gli fosse stare a rubare la partita Addirittura troppa decisione dell'arbitro nel fischiere a un fallo di Rigore Cioè ormai le persone non hanno più la decenza neanche di dire Di esprimere concetti che abbiano un senso Cioè vengono vomitati i concetti così A cazzo di cane nessuno gli dice nulla Va benissimo Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente Lukaku e Premus che fanno quella scena che fanno all'Incoppa Italia A me personalmente non frega nulla Ma questo è un altro discorso di quelle cose di campo Cioè per me sono stati molto più... anzi si dovevano dare un cazzotto per come la vedo io E finiva tutto lì sul campo Neanche senza ammunizione per come vedo io lo sport Ma va bene Hanno fatto tutta quella lagna Sono stati ascoltati a distanza di 10-11 giorni in videoconferenza In modo da non poter essere squalificati adesso per il debito la settimana prossima Cioè la Procura Federale praticamente è andata a rilento Sono 20 giorni che è successa questa cosa Ancora non si arriva a Dama sulla squalifica Perché nonostante fosse successo in Coppa Italia Sarebbe comunque stata applicata per il campionato E quindi avrebbero saltato il derby Che fai il derby senza Lukaku e Premus? Ma che sei matto? E quindi si sta procedendo a rilento Questo, tutto questo Contestualizzato poi Voi ho detto, ah no Paradici pure che urla lì in tribuna Con il video di Paradici che urla e insulta l'arbitro Cioè a parte la cafonaggine incredibile Ormai gente che litiga negli spogliatoi Senza alcun ritegno Questa è un'Italia in cui In cui non deve cambiare nulla Cioè È così ragazzi Non fa casino I tamponi della Lazio Qualcuno si sta questionando qualcosa No perché Le indagini le stanno protrendo 5-10 anni Tra 10 anni la gente si dovrà ricordare Ma che è? La Lazio aveva falsificato i tamponi Aveva Immobile si era allenato Quando in realtà il tampone era positivo Che qualcuno ha analizzato questa questione No Non gliene ha fregato un cazzo a nessuno ragazzi Questo è un paese così Che ti sfinisce C'è una burocrazia Un Un intruio Una politica Dietro Che ti porta piano piano a sfinirti E a dire Non deve cambiare niente La settimana che si stanno facendo tutti le seghe Perché le strisciate sono Prima, seconda e terza in classifica Che bello Nessuno si sta questionando Sul fatto che l'Inter Ha costruito questa squadra Con i soldi da sponsor cinesi Che non sono arrivati Perché sono stati bloccati Perché la Cina non gli ha fatto arrivare E quindi hanno inserito Plus Valenze dal punto di vista economico Dal punto di vista finanziario Non hanno soldi Non hanno liquidità in cassa Perché? Perché il padrone non può far arrivare Soldi Non può far arrivare soldi Nessuno si questione di questa volta qui Cioè l'Inter Ha una rosa costruita E non poteva costruirla Ma che cazzo se ne frega Dai È un cavallo topato Ma chi se ne frega Ma col sorriso Ma che? Ma che stai scherzando? Il Milan sta facendo a fuori soldi Da chissà dove Chissà dove il Milan Già con l'operazione quella di Berlusconi Che non era chiara Non era chiara Molti politizzano Che sia il riciclaggio di denaro Il Berlusconi Ma non era chiara Quell'operazione Adesso stanno arrivando soldi Da fondi Chissà perché Cioè qual è il motivo economico Per cui Debbono continuare a investire così Fondi Di cui non si sa la provenienza Cioè Magari per diletto di qualcuno Qualche riciclaggio di denaro Non lo so ragazzi Tutto può essere Ma Contestualizzato poi In un'Italia che Adesso un governo Con dei ministri Che io quando l'ho visto Vi giuro Pensavo alcuni di questi Fossero morti Invece no Stanno sempre lì A mettere le mani A mettere l'amico dell'amico A cercare di 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 tirare i fili Di questo paese Stanno tutti lì Tutti Tutti insieme Che almeno ci hanno detto una cosa Questi sono i fatti Questa cosa qui non cambia Non cambia con le buone No perché adesso poi Il Movimento 5 Stelle Che era quello di rottura Sta lì dentro Non cambia con le buone O c'è una rivoluzione O non si cambia Quindi dato che a me Ad oggi Non mi fate fare rivoluzioni Lo voglio accettare Con il sorriso Che bello Voglio accettare Quest'Italia che non cambia Allora accettiamola Con il sorriso Questo era Diciamo il discorso Di apertura Accettiamolo Detto che poi Draghi Dal mio punto di vista Come già vi ho detto È una di quelle poche persone Professionalità Che io reputo Al di sopra della media Per intelligenza Capacità E poi vi dico Draghi Una bella vita Non l'ha fatta Lo posso assicurare Non ha fatto una bella vita Al contrario Per esempio Quando io dico Uno Razzi Che faceva il senatore E non riesce neanche A fare una frase Di senso compiuto Razzi ha fatto Una bella vita Per come la vedo io Draghi Che ha l'occhiaie Fino a qua Un po' sotto Un po' sotto il labbro Non ha fatto Una bella vita Lo posso assicurare Avrà lavorato 14-15 ore al giorno Alla BC Rischiando infarti A ruotare i colli Avrà avuto Il defibrillatore Attaccato Tutti i giorni Perché non fai Una bella vita Se fai quella cosa lì Cioè se fai Presidente La BCE Non fai una bella vita Detto questo Detto questo Guadagni tanti soldi Ma non è fare bella vita Ragazzi Io a Lussemburgo Ho visto le persone Che guadagnavo 20 mila euro al mese Ma che erano Proprio tristi Lontano un miglio Infelici Comunque detto questo Ragazzi Chiusa questa Chiusa l'introduzione Parliamo della Roma Che comunque Ieri Ha vinto una partita Con un avversario Tosto Io l'Udinese La temevo tantissimo Ha vinto poi Con un Paolo Lopez Che mi ha fatto quasi Esultare A un certo punto Nel mentre Del pranzo Si stavo per alzare in piedi Ed esultare Così A bruffo Per la parata Che ha fatto Quindi Paolo Lopez È stato decisivo Una Roma Che continua A confermare Quello Che è il trend Cioè Che con le piccole Non c'è storia Ma non è che la Roma Rischia O meglio In alcune partite Ha rischiato chiaramente Anche di non vincere Però non è che Rischi tanto Ma Diciamo vince Con certezza Cioè Con decisione Con le piccole Come purtroppo Con le grandi Si ha sempre La sensazione Che la partita Possa prendere Una brutta piega È chiaro che poi Ci sono state eccezioni Anche con le piccole Per esempio L'Udinese l'andata La Roma Ha rischiato di perdere Quella partita Ma ha rischiato Anche di vincere Con la Juventus L'andata Quindi è chiaro Che non ci può Essere sempre Un out out Ma il senso È che la Roma Con le piccole Riesce ad imporsi E il gioco Si vede lampante Cioè Chi discute Fonseca Deve anche dire Io non voglio più Vincere con le piccole Non voglio più Vedere una squadra Che ha questa identità Perché la Roma Ha un'identità E mi piace tanto Andiamo sempre a trovare Giocatori tra le linee Purtroppo siamo limitati In alcuni ruoli Vi continuo a ripetere I ruoli dell'esterno Non è possibile Che non mettano dentro Gol Perché è un problema grave I trequartisti Ben o male Il loro gioco Lo stanno facendo Dalla punta Ci si può aspettare Sicuramente qualcosa di più Sia uno che l'altro Perché ieri Giaco è entrato E ha fatto pena Un'altra volta La voglia di Motta Si è presa le punta Do Giaco No ragazzi Io vedo I fatti Io sono il primo A dire Giaco È un fuoriclasse È stato un fuoriclasse Ma purtroppo Ragazzi è entrato E sembrava un cadavere Quindi Questi sono i fatti Ed è molto più immobile Borca maionale Adesso Ma adesso È inutile negare Questa cosa qui Mi sembra negare I fatti In difesa Cristante ha fatto Un'ottima prova Con ottimi recuperi Purtroppo Quell'errore Mi sta per far Diciamo Notare Ecco Il ristorante Quanto meno Ma poi Paolo Lopez Ci ha messo una pezza Altri begli interventi Di Paolo Lopez Tutti in fuorigioco Se non sbaglio Perché comunque Non è che la base È un'attenzione Incredibile Ma la Roma Ha giocato bene Dai Ha giocato bene In tutti In tutti i giocatori Della Della squadra E mi piace È una Roma che mi piace Cioè è una Roma che mi piace Qualcuno dice Metti in dubbio Con Sega Io metto in dubbio Con Sega Significa rinnegare Queste belle partite Queste belle vittorie In cui tu hai dominato Su una squadra Che ha messo in crisi Tante altre squadre E fa giocamare Tante altre squadre Ha fatto tre gol All'Udinese Che comunque Sono già due anni Che ha un'ottima difesa Perché l'anno scorso Musso ha fatto Record di clean sheet Quindi In Serie A Quindi non è che È una novità L'Udinese È una bella squadra La Roma L'ha battuta 3-0 Avanti il prossimo Purtroppo Merebbe lì Abbiamo difficoltà Nei sconti diretti Ed è lì Se incominciamo Ad inanellare Qualche Dico tanti Dobbiamo vincere tutti Ma sarebbe bastata Pensare Una Una vittoria Due vittorie Di partite Che magari Ti potevano girare bene Nei minuti finali Che ne sono Dico una Quella con l'Inter Magari trova un gol Fortunoso alla fine O quella con la Juve Di non perderla E sareste stato Veramente In una posizione Molto più interessante Adesso chiaramente L'Inter È prima in classifica Ce l'ha fatta Raggiungere La prima posizione Ancora una volta Vi dico l'Inter È la squadra più forte Del campionato Perché Ha un giocatore Lukaku Che è superiore In questo campionato Fa la differenza Come va la differenza Cristiano Ronaldo Per carità Però Complessivamente La Juventus Ha una squadra Che sta increscendo Dice ma come fai A dire Scusate L'Inter Come fai a dire Che ha una rosa Superiore alle altre Ragazzi Se guardate Tutti i reparti Ha dei calciatori Che stanno crescendo Oppure dei calciatori Che ha preso Al top Della loro carriera Tipo Vitale Eriksen Poi per carità Se vi fa giocare una merda Perché parliamoci di L'Inter È la squadra Forse più brutta Che sta in testa La classifica Non so a quanto tempo Però Forse da No L'Inter di Mourinho Guardate Era brutta Ma almeno Guardate Un minimo di idee Io non vedo idee In quella Io l'ho vista La partita ieri È veramente L'Inter Brutta 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 La Lazio Almeno Dei concetti Ce li ha Dei concetti Ce li ha L'Inter Neanche quelli Brutti È veramente Aiuto Ma è di brutto Però Rosa Nettamente più forte Delle altre Nonostante qualcuno Insista a dire Che non è calciatori Ma prendetevi la rosa Dell'Inter E ci sono i calciatori Poi gli dici Sì Sì Al suo studio De Luca Qui È Pinamonti Sì Vabbè Il nostro È Borca Maioral Allora Non ce l'avevamo Manco noi Noi stavamo Giocati senza Ponte Giaco Non ne va E Borca Maioral Non lo contiamo Allora Facciamo i conti Come vi pare A voi E allora Avete ragione Voi Detto questo Ragazzi Io vi saluto Anche perché Devo tornare In ufficio Ciao Tattico E ciao A tutti quanti